Ciao a tutti ragazzi qui è Visio e Mary e ben ritrovati nel canale Oggi ragazzi appuntamento un po' al femminile come sapete ormai quando c'è la nostra Mary abbiamo prodotti da ragazze E ormai dobbiamo dire che questo è diventato un appuntamento abbastanza fisso perché la nostra Mary ci sta prendendo anche gusto a fare tutte queste cosette Quindi io direi di non perderci in chiacchiere andiamo ad aprire questi fantastici prodotti a tema LOL Prima di iniziare questo video ragazzi io come al solito vi ricordo che sul canale sono attivi due fantastici giveaway Il primo che comprende il mazzo base del gioco di carte collezionabili Pokémon di Charizard e la Pop di Crash Bandicoot E l'altro invece con tutti questi fantastici gormiti Mi raccomando ragazzi vi lascio la scheda qui sopra e i link qui sotto in descrizione mi raccomando partecipate numerosi Eccoci qua Eccoci qui ragazzi Allora partiamo con la colombina che già ne abbiamo aperte due in precedenza dei gormiti e vi lasciamo il link qua sopra Bene bene sì sì Eccola qua Lì abbiamo trovato i braccialetti 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 Facciamo vedere la scatola prima Allora innanzitutto scusate ecco qua la scatola Ok Con le nostre bellissime LOL Poi anche qui dice Anche dietro uguale Ah uguale Sul lato come i gormiti dice subito per te un originale sorpresa Ok ok allora procediamo 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 Scartiamo tutto Allora la nostra colombina qua La sorpresa la mettiamo via Colombina Eccola qua Buona 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 Buonissima Confermiamo che buona Sì E la nostra sorpresina che anche qua Ok niente Non riusciremo Guarda un po' Per forza Perché non riusciremo mai ad aprire Allora mi pare che anche qui Abbiamo un braccialetto Un bellissimo braccialetto Eccolo qua Eccolo qua Abbiamo la nostra super LOL Questa No vabbè Sembra un po' Meri Sembra un po' Con il suo vestitino bianco Gli occhialetti La scritta LOL Da entrambe le parti E gli occhiali Nuovamente Belli fashion Pure loro E a posto Proviamo sul mio braccio Vediamo un attimo come ci sta Tadà Perfetto Eccolo qua A me stava un po' piccolino Quello dei gormiti A me invece Va meglio È perfetto Ok dai Prima sorpresa carina Comunque stile gormiti Insomma mi sa che queste colombine Ci hanno messo i braccialini Eh sì Le colombe Sì Procediamo Con l'uovo di Pasqua Ugualmente Scritta LOL Personaggetto Uovo di Pasqua Senza olio di palma Senza olio di palma Anche questo cioccolato L'abbiamo assaggiato Noi preferiamo il kinder Noi dobbiamo dire Diciamo la verità Però insomma Non è male Non è male No 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 Allora Apriamo Qui il nostro Facilissimo da aprire Sì sì Anche quell'altro Sera aperto Mettiamoli la carta No io direi di rimetterla Sennò mi riempirai Tutta l'ottimonia di cioccolata Non te lo permetto È vero Vai vai Vado eh Ok Ecco qua Dopo l'assaggiato Questo invece Questa è rosa Quella di Cormiti Era blu invece E mi sa che le sorprese Sono molto molto simili Quindi chi ci ha seguito Sui Cormiti Già saprà Cosa abbiamo Ecco qua Che però devo dire Che non sono niente male No vabbè ragazze È carinissimo Guardate tutti gli adesivi Dele LOL Guardate quanti ce ne sono Belli Sono bellissime Queste magari da attaccare sul diario Oppure sull'armario In cameretta Da regalare anche alle amiche Oh Mi è sfuggito No vabbè Stupendo Molto carine Sì 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 E dunque ragazzi Per questo video È davvero tutto Noi come al solito Vi invitiamo Ad iscrivervi al canale Premere sulla campanellina Per stare sempre Aggiornati per le nuove uscite E se questo video Vi è piaciuto ragazzi Lasciate un grosso Pollice da lì su E soprattutto Le ragazze Questa volta Sì sì Noi vi diamo appuntamento Al prossimo episodio E vi mandiamo Un grosso saluto Ciao 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 ragazzi Ciao ciao